Troverete anche sulla app di OneFootball sia nella giornata di oggi che nei prossimi giorni analisi, riferimenti, statistiche sul fatto che in un test partitella a Milanello e in tre amichevoli estive Piontek non ha fatto gol. Ce lo aspettiamo e non ci nascondiamo dietro un dito, avesse fatto gol saremmo tutti più contenti, ma tra voler essere più contenti e non essere preoccupati può non esserci contraddizione. Non siamo minimamente preoccupati e invitiamo un po' tutti a tenere giù le mani da Piontek. Perché non siamo preoccupati? Perché, contrariamente a qualche giudizio un po' avventato e un po' demagogico, Piontek è tutt'altro che assente nel gioco del Milan. Intanto Piontek, nella partita che ha giocato contro il Bayern Monaco, aveva sperimentato per la prima volta Castieco al suo fianco e aveva alle sue spalle il giovane Daniel Maldini. Logico che in un assetto 4-3-1-2 di quel genere non ci fosse intesa e non ci fosse sintonia. E poi è stata una partita tutta particolare per il Milan. Il test a Milanello col Novara, se ci consentite non lo prendiamo in considerazione. Anche perché si diceva un'estate fa che era comodo per Piontek fare 4 gol in Coppa Italia contro il Lecce. E oggi vediamo invece un giocatore diverso, un giocatore che non sfrutta il fattore sorpresa, un giocatore che non rimane ad aspettare l'assist giusto, ma si muove molto. E quando si muove, attenzione, e qui arriviamo alle partite contro Benfica e Manchester United, viene seguito per tutto il campo. Abbiamo visto Ruben Dias e Ferro, i due centrali del Benfica, a turno seguire Piontek anche fin sulla metà campo. La stessa cosa ha fatto Lindelof a Cardi fieri. Vuol dire che il giocatore è tutt'altro che assente o sciagurato, come scrive il mio amico, con cui bisogna avere tanta pazienza e tanta buonomia, furio fedele. Al contrario, Piontek è temuto e viene seguito dai difensori e centrali avversari ovunque. Poi, contro il Manchester United, non ha fatto gol anche per due grandi prodezze da parte di De Gea. La prima su tuffo di testa, quando su assist disuso da trequartista Piontek ha spizzato e De Gea ha fatto una grande parata sull'1-1. E la stessa cosa sul pallonetto molto bello che aveva fatto Piontek per portare nuovamente il Milan in vantaggio, ma che è stato parato smanacciando dallo stesso De Gea. Ecco, quando sei nel vivo del gioco, quando hai le occasioni, quando vieni raggiunto dai compagni, perché questo è il fatto nuovo di Manchester United-Milan. Mentre contro Benfica e Bayern non è stato molto raggiunto dagli assist Piontek, le occasioni poche che ha avuto se le era create un po' da solo. Contro il Manchester, dal momento che è la seconda parita consecutiva, con lo stesso assetto offensivo su uso trequartista e Piontek Castieco davanti, poi destinato a cambiare, ma per la seconda parita estiva è stato così, ecco Piontek ha ricevuto i primi palloni e ha sfiorato il gol. Poi i gol non è necessario che arrivino nel corso dell'estate delle amichevoli, è importante che arrivino a partire dalle ore 18 del 25 agosto, magari dalle parti di Udina.